Stiamo parlando del Presidente del Consiglio, quindi è certamente sufficiente e quindi ho motivo di pensare che nell'immediatezza di questa decisione giusta di dare la fiducia per mettere l'Italia all'appuntamento europeo in piena regola, ci sia la possibilità sia di considerare qualche modifica rispetto all'intervento sul mercato del lavoro, che può essere vista dentro i prossimi decreti che passano, ma in particolare una soluzione concreta almeno di un'ulteriore parte della questione degli esodati e io so che ci sono le condizioni per avere questa risposta.